Eccoci qui ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Nelle ore precedenti DJI ha rilasciato un nuovo aggiornamento per l'app DJI Fly, ovvero la versione 1.5.8. È già disponibile per tutti i dispositivi Android e iOS, quindi la potete già scaricare. Per aggiornarla con un dispositivo Apple basterà andare sull'App Store e lì lo trovate, e invece per i dispositivi Android o cliccate direttamente sull'app e poi vi verrà chiesto l'aggiornamento. Se invece non fosse così, se non ve lo richiede, potete andare direttamente sul sito ufficiale della DJI che è già aggiornato e lì potrete trovare l'aggiornamento disponibile. Ora vi leggo quello che c'è di nuovo, andiamolo a vedere insieme. Aggiunge supporto per quickshot, panoramico e quicktransfer su DJI Mavic 3. Aggiornamento all'ultima versione del firmware per il veicolo per utilizzare questa funzionalità. Quindi il primo paragrafo è dedicato al Mavic 3. Poi, esperienza utente ottimizzata durante la regolazione delle impostazioni della fotocamera in modalità Pro, quindi questa cosa dovrebbe essere anche per il Mini 2. Poi risolve alcuni problemi e ottimizza la qualità complessiva dell'app. Ora faremo il test di volo con il DJI Mini 2 usando un iPhone 13 Pro e vediamo come si comporterà questo ultimo aggiornamento dell'app. Lo testeremo insieme e lo commenteremo. Ma prima di iniziare, io vi ricordo sempre, se lo avete ancora già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube e anche al mio gruppo Facebook che ho creato per quanto riguarda il DJI Mini 2 e il Mavic 3. Se vi volete iscrivere, vi lascio qui sotto il link in descrizione. Ma ora portiamoci all'esterno ed iniziamo il test. Vai! Ecco, abbiamo già acceso il drone. Andiamo sulle impostazioni, a comandi e attiviamo la ricarica del telefono che è ancora presente su questo aggiornamento, fortunatamente. Poi andiamo sulle informazioni, come potete vedere, versione app 1.5.8 e poi verifichiamo se c'è qualche aggiornamento. Qui siamo a posto. Data base FlySafe a posto. Quindi niente, ora ci portiamo all'esterno e decolliamo. Qui, come potete vedere, sull'iPhone è cambiata anche un po' la grafica. Ci abbiamo il logo dei satelliti che è un po' diverso, la tacca del segnale e altre cose. Ora comunque aspettiamo che prenda il segnale e decolliamo. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Come potete vedere sul radar il pallino blu oscilla un po'. Non hanno risolto questa problematica o perlomeno sul mio iPhone 13 Pro. Non so veramente il motivo di questo bug. Comunque, a parte questo, proviamo il drone. L'unica cosa, andiamo sulla trasmissione, andiamo a switchare in 2.4, se abbiamo un segnale un po' più stabile. e ci alziamo ad un'altezza di sicurezza. Portiamoci a circa 100 metri di altezza e facciamo alcuni giri. segnale stabile. Un piccolo lag di ritorno video. e niente, puntiamo la chiesa, la nostra chiesa della pieve, e andiamo in là. Il drone va abbastanza dritto, fortunatamente. Però comunque c'è sempre questo lag fastidioso del pallino blu, che dà veramente noia purtroppo. Comunque, il drone va dritto, e niente, è un po' fastidioso, è un po' veramente fastidiosa sta rossa. Il drone, fortunatamente, va molto dritto, e ora siamo di già una distanza notevole, 700 metri. Arriviamo in prossimità della chiesa. Ora siamo anche molto bassi, perché qui la chiesa è in un rilievo di collina, quindi alziamoci anche un attimo. Non siamo comunque a più di 120 metri, voglio puntualizzare. Eccoci, qualche lag ancora di ritorno video. Ecco, ora addirittura si era bloccata l'immagine, ma comunque perché sono oscurata da alcune piante, sicuramente. Comunque niente, torniamo indietro. Ecco. Comunque sotto nei commenti, scrivetelo anche voi, fatemelo sapere se con i dispositivi Apple vi dà questo problema del pallino blu. perché è molto insistente. Comunque niente, abbassiamoci. Riportiamoci sotto i 120 metri. Ci sono parecchi lag di ritorno video. Ancora. Boh. Non sono molto soddisfatto comunque di questo ultimo aggiornamento. Poi ci sta che su altri dispositivi possa andare bene. Infatti lo dovrò provare sul mio dispositivo Android. A questo punto interrompiamo questo brevissimo test. Torniamo al punto di partenza. Che vi devo dire? Non sono assolutamente soddisfatto di quest'ultimo aggiornamento dell'app DJI Fly. A parte per il pallino blu che, vabbè, impazzisce da diversi aggiornamenti a questa parte. Comunque è molto fastidioso. Ma comunque, boh, ci sono anche parecchi lag di ritorno video che prima non ho mai notato. Comunque, vabbè, è stato un volo veloce. Sicuramente lo riproverò anche con altri dispositivi. Vedrò un attimo il funzionamento e vi farò sapere. Comunque, fatemi sapere qui sotto nei commenti come vi va quest'ultima versione dell'app. Scrivetemi sotto e niente. Io, come sempre, vi ringrazio per la visione. Noi ci vediamo ai prossimi video. Un saluto a tutti. Grazie. 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 Grazie.